L'aria Cacciamani, ci racconti un po' di gara 3, che strategie hai usato nei lanci? Un po' varia, come all'andata abbiamo deciso di mischiare i lanci perché comunque il bollate ha battitori veramente forti e quindi dovevamo essere concentrati al massimo e ci siamo riuscite. Comunque per te è una serie da incorniciare, due vittorie, punti battuti a casa. Sì, è andata bene. In gara 4 poi è successo un po' l'incredibile perché non si aspettava nessuno. Sì, veramente, i nostri lanciatori sono stati bravissimi, noi abbiamo sfruttato ogni occasione e abbiamo vinto. Per ultima cosa ti chiedo anche a te se vuoi dedicare a qualcuno questa vittoria. ai miei genitori e a mia sorella e a tutta la squadra e alla società. Grazie, complimenti. Grazie.